Cadde da un'altezza di 7 metri durante le fasi di costruzione di un palazzo nel quartiere di Colle Macchiuzzo a Termoli. Per l'operaio di San Severo non ci fu scampo. Un tragico incidente sul lavoro era il 26 giugno del 2012. Per quella morte il giudice del tribunale di Larino, Tiziana Di Nino, ha ritenuto responsabili l'imprenditore edile e tre tecnici coordinatori della sicurezza condannandoli ciascuno a un anno e otto mesi di reclusione. Gli imputati condannati anche a risarcimento del danno ma la famiglia dell'operaio per i danni aveva chiamato in causa anche la compagnia assicurativa Lloyds di Londra difesa dall'avvocato termolese Roberto D'Aloisio e assolta. Nessuna conseguenza patrimoniale per il colosso britannico. Era completamente strana questa triste vicenda dove un operaio ha perso la vita sul lavoro cosa che purtroppo capita e capita purtroppo troppo spesso. Effettivamente le condanne hanno riguardato soltanto i diretti responsabili e quindi saranno soltanto loro a rispondere del risarcimento del danno e questo francamente anche mi rincuora come persona, come uomo, prima ancora come giurista. Ritengo che gli imputati attualmente condannati faranno appello anche ragione del fatto che in precedenza due degli imputati erano già stati assolti e poi la Cassazione aveva annullato questa soluzione e quindi probabilmente rimetteranno in gioco tutto.